Piazza Fari termina le contrattazioni con il Fuzzi Miba a più 1,13%, l'Allshare a più 1,07%, lo spread BTP Bund scende sotto quota 260 punti. Tra le consorelle europee Amsterdam registra più 0,56%, Bruxelles meno 0,04%, Parigi più 0,64%, Francoforte più 0,19%, Londra più 0,49% e Lisbona più 0,18%. Sul paniere principale Brilla Mediobanca che ha chiuso in forte rialzo più 5,70%, acquisti sostenuti anche su Diasorin più 3,86%, misti i bancari Unicredit segna più 2,36%, bene anche Intesa San Paolo a più 2,41% e Ubi a più 1,16%. Giù invece Monte dei Paschi di Siena a meno 2,01% e la Popolare di Milano a meno 0,26%. Vendite su Telecom Italia a meno 0,92% dopo l'annuncio di una maxi-multa da parte dell'Antitrust per oltre 103 milioni di euro. Bene Fiat più 1,76% con Exor più 2,42% e Industrial più 2,19%. Acquisti anche su Generali più 0,69% mentre Flette Mediolanum meno 1,47%. Misti gli energetici con Saipem a meno 0,96%, A2A a meno 0,32%, Eni a più 0,70% ed Enel a più 0,82%. A7A a meno 0, Evil 4, evangelizzati con l'anno di superfiloni di retro helt step e non 15 grod preverte la più 5,60% e Those online calling extremis. Grazie.